Buonasera, oggi è stata una giornata di svolta per l'Ucraina e da questo partiremo tra poco con il telegiornale perché dopo settimane di scontri e di combattimenti si è concluso l'assedio a Severodonetsk. Siamo nel Donbass, nella parte meridionale e orientale del paese. Un assedio importante quello di questa città perché dal punto di vista tattico è stato molto significativo. E' stata sgomberata anche l'acciaieria, la Zot con i militari che erano ancora all'interno. Circa 800 persone, tutti civili, sono stati evacuati. Questa ripresa e questa conclusione in realtà non viene letta dagli ucraini come una sconfitta perché il capo dell'intelligence di Kiev ha fatto chiaramente capire che si tratta di una decisione, quella di ritirarsi, una resa tattica che dovrebbe prevedere appunto a breve una controoffensiva che dovrebbe, sempre secondo quanto riferisce Kiev, scattare ad agosto. E è stato sottolineato, non è ancora detto che non si riesca non solo a riconquistare quello che è stato perso nelle ultime settimane nel territorio del Donbass ma addirittura tornare ai confini del 91. Tutto questo mentre dalla Russia continuano ad arrivare nuove minacce militari. Il presidente Putin ha incontrato oggi a San Pietroburgo il presidente bialorusso Lukashenka al quale ha promesso l'invio di nuovi missili a corto raggio, gli Skander-M che peraltro possono anche montare testate nucleari. Quindi capite che la situazione è estremamente delicata e tutto questo alla vigilia di due vertici importanti a livello europeo in cui si parlerà proprio di Ucraina. domani comincia il vertice del G7 in Germania, Ermao mentre alla fine della prossima settimana ci sarà il vertice della Nato a Madrid ai quali parteciperà anche il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden che è partito proprio oggi pomeriggio dalla Casa Bianca peraltro lasciando dietro di sé un paese, è il caso di dirlo, senza esagerazioni, sotto shock dopo la decisione della Corte Suprema che ha di fatto abolito la sentenza del 73 che permetteva l'aborto legalizzato a livello federale sono esplose le manifestazioni in tutto il paese, nelle principali città oltre che davanti alla stessa Corte Suprema ma a New York, soprattutto a Los Angeles, a San Francisco proprio contro questa decisione. lo stesso Biden ha definito una decisione, quella della Corte Suprema devastante e dolorosa e peraltro proprio poco prima di partire ci torneremo affrontato un altro dei temi cruciali degli Stati Uniti cioè la diffusione delle armi firmando una legge che vedrete e sentiremo pone delle limitazioni anche se non estremamente restrittive. La politica italiana invece in queste ore si sta occupando oltre che di commentare la sentenza sull'aborto negli Stati Uniti in maniera va detto piuttosto bipartisan, negativa appunto da tutti gli schieramenti politici si sta occupando soprattutto di temi economici in particolare del cuneo fiscale perché il segretario del Partito Democratico Letta di fronte ai giovani industriali ha lanciato la proposta di un patto un patto che dovrebbe coinvolgere il governo e le parti sociali proprio sul cuneo fiscale per dare uno shock al cuneo fiscale su questo i rappresentanti della maggioranza sembrano tutti d'accordo anche se con i diversi distinguo di cui vi daremo conto tanto che il presidente della Confindustria Bonomi ha detto di aspettarsi l'approvazione di questo patto già lunedì prossimo. Lunedì invece in realtà si parlerà soprattutto di elezioni sapete che domani sono chiamati di nuovo alle urne per i ballottaggi delle amministrative circa 2 milioni italiane in moltissime città 65 comuni alcune sfide sono particolarmente significative in particolare quelle di Verona, di Catanzaro, di Parma anche perché sono il primo test dopo la separazione del Movimento 5 Stelle saranno un test anche per capire gli equilibri delle coalizioni torneremo però anche a parlare di molti altri temi in particolare quello della siccità che sta colpendo moltissime regioni soprattutto la Lombardia vedremo che ci sono dei provvedimenti importanti che sono stati decisi e poi non potremo non parlare dell'acqua invece in senso positivo perché gli atleti azzurri ai mondali di nuoto a Budapest hanno raccolto moltissime modaglie un nuovo oro per il duo Miss e soprattutto l'incredibile Gregorio Paltrinieri che ha vinto un nuovo oro nei 1500 stile libero intanto vi aspetto tra 30 secondi per i titoli Seviero Donetsk è ormai in mano alle forze russe è caduta quindi la città chiave della guerra che potrebbe avere una nuova svolta a questo punto Putin ha peraltro annunciato che Mosca fornirà alla Bielorussia armi di ultima generazione compresi gli Skandari missili a corto raggio in grado di portare anche testate atomiche Kiev dove oggi è tornato il coprifuoco resta ottimista ad agosto dicono i rappresentanti del governo torneremo e torneremo ai confini del 91 in molte città negli Stati Uniti da Washington a Los Angeles proteste cortei contro la decisione della Corte Suprema di abolire l'aborto federale ora decideranno i diversi singoli stati è una sentenza quella della Corte Suprema che lacera il paese e che viene criticata con grande durezza dallo stesso presidente Biden che la definisce devastante e dolorosa oggi peraltro il presidente ha firmato la nuova legge che limita parzialmente l'acquisto di armi il segretario del PD Letta al convegno dei giovani di Confindustria lancia l'idea di un intervento shock sul cuneo fiscale l'idea raccoglie pareri favorevoli positivi o almeno costruttivi nella maggioranza da parte sia di Conte che di Salvini domani più di 2 milioni di elettori saranno intanto chiamati alle urne per i ballottaggi in 65 comuni è un voto amministrativo importante che riguarda tra l'altro 13 città capoluogo primi provvedimenti operativi per affrontare l'emergenza siccita nel nostro paese il sindaco di Milano Sala ha chiuso le fontane nei parchi ha firmato un'ordinanza per invitare la popolazione a ridurre al minimo l'uso dell'acqua potabile intanto l'Alto Adige ha fatto sapere che aiuterà il Veneto garantendo acqua supplementare nei prossimi giorni attesa una nuova ondata di calore giornata trionfale mondiale di nuoto di Budapest Gregorio Paltrinieri stravince il titolo è ridato nei 1500 stile libero ed è d'oro anche la staffetta mista degli uomini poi l'argento per la pilato nei 50 rana il bronzo per ceccon nei 50 dorso nel nuoto sincronizzato secondo titolo al duo misto azzurro Menesini-Ruggero che si confermano anche nel libero argento nella prova Highlight Buonasera ben trovati allora lo avete sentito è caduta definitivamente in mano russa è stato lo stesso sindaco della città ad annunciarlo la città di Severo Donetsk che è stata al centro di battaglie e di scontri nelle ultime settimane perché è una città cruciale sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista strategico naturalmente questa perdita questa resa da parte dell'Ucraina viene eletta da parte di Kiev non come una sconfitta ma anzi come una ritirata tattica così è stata definita per far partire una controffensiva che dovrebbe cominciare il prossimo agosto e che metterebbe secondo gli analisti Kiev nelle condizioni di trattare una pace o un cessate il fuoco i prossimi mesi in una posizione maggiormente di forza quello che è certo che adesso la situazione nella città è questa la città di Severodonetsk nella regione di Luhansk in Donbass è da ore completamente sotto controllo delle forze di Vladimir Putin ad annunciarlo nel pomeriggio il sindaco Stryuk da venerdì le truppe ucraine ancora in battaglia con quelle russe dopo settimane di guerra sono state ridispiegate fuori da questo centro strategicamente fondamentale per la conquista da parte russa dell'intero sud dell'Ucraina almeno secondo i piani iniziali dello Stato Maggiore di Mosca la tattica usata per il riposizionamento ucraino vedrebbe ora i soldati di Kiev in grado di colpire da fuori le unità di terra russe entrate in città in queste ultime ore con il supporto dell'artilleria ribadisco la natura strategica della ritirata momentanea ripete Kirillobudanov numero uno dei servizi di intelligence di Volodymyr Zelensky entro l'anno potremmo addirittura vincerla questa guerra ripete Budanov vincerla e tornare ai confini del 1991 quando crollò l'Unione Sovietica un ottimismo quello dell'ufficiale ucraino in parte motivato dall'arrivo delle prime batterie di missili I-Mars americani già operativi contro obiettivi russi in città intanto truppe regolari affiancate da milizie cecene di Kadyrov hanno preso il controllo anche dell'impianto chimico azot da cui nelle ultime ore sono stati fatti uscire 900 civili che vi avevano trovato rifugio insieme ad un imprecisato numero di soldati ucraini come in un eterno botta e risposta ecco allora l'annuncio di Vladimir Putin di voler fornire nelle prossime settimane alla Bielorussia decine di missili Iskander-M capaci di trasportare testate nucleari sempre Putin oggi è tornato ad accusare l'America e la Nato il Pentagono ha ordinato il dislocamento in sei paesi dell'alleanza di 200 armi nucleari dice Putin con 257 aerei pronti a trasportarle una conferma dei timori di Mosca manifestati già ieri circa un futuro attacco americano al suolo russo tornando al campo la ritirata da Severodonetsk ha innescato ulteriori combattimenti nell'intero oblast di Luhansk all'Isichansk già ieri data per conquistata dai russi si continua a combattere strada per strada nonostante la città sia completamente accerchiata intanto cadono nuove teste tra i vertici militari di Mosca Putin ha rimosso dal suo incarico il generale Dvornikov sino ad oggi capo della missione in Donbass al suo posto si rivede Sergei Surovkin capo russo della guerra in Siria e da 30 anni al centro di accuse che vanno dalla corruzione all'uso di metodi brutali per chiudere immagini che arrivano da Novorossisk dove il patriarca ortodosso Kirill solidale con la guerra di Putin ha celebrato una funzione benedicendo i presenti deve aver però fatto cadere in terra troppa acqua santa che ha provocato a sua volta una caduta di Kirill che ha poi ironizzato sull'accaduto di Ucraina verrà a parlare in Europa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden perché ci sono due vertici importanti uno che comincia domani in Germania il G7 e poi a fine della prossima settimana a Madrid il vertice della Nato Biden che è partito nel pomeriggio di oggi si lascia dietro però un paese decisamente sotto sciocche dopo la sentenza della Corte Suprema sulla legge sull'aborto quella del 73 che permetteva e autorizzava l'aborto a livello federale adesso di fatto ogni Stato potrà legiferare a modo suo e la cosa più importante dal punto di vista politico lo ha sottolineata oggi il Washington Post dicendo che gli Stati Uniti si stanno avviando a un periodo di incertezza dal punto di vista legislativo perché le leggi cambiano e vengono ribaltate da un giorno all'altro su questioni fondamentali di diritti civili e questo non è quello di cui ha bisogno l'America e gli Stati Uniti in questo momento Biden peraltro prima di partire ha toccato un'altra questione delicatissima perché ha firmato una legge sulla restrizione delle armi anche se parziale questa è la legge sulle armi più significativa degli ultimi 30 anni le parole del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden giungono in un momento difficilissimo con un paese spaccato e attraversato da una poderosa ondata di proteste contro la decisione della Corte Suprema che ieri ha sostanzialmente cancellato la tutela federale del diritto all'aborto e arrivano all'atto della firma su un provvedimento che tocca un altro tema profondamente divisivo negli Stati Uniti approvato con voto by partisan dopo l'ennesima strage con armi da fuoco quella della scuola elementare di Juvalde il provvedimento incentiva gli stati ad adottare leggi che consentano la confisca delle armi a persone ritenute da un giudice troppo pericolose per possederle nessun intervento invece sulla vendita di fucili d'assalto su quella dei caricatori ad alta capacità un passo avanti molto timido frutto di un compromesso al ribasso dunque che mette drammaticamente a nudo il paradosso di un paese nel quale viene considerato inviolabile il diritto di portare armi sancito dal secondo emendamento di una costituzione del 1787 ma viene cancellato con un tratto di penna quello delle donne di scegliere del proprio corpo e della propria gravidanza come detto lo ha fatto ieri la maggioranza conservatrice della Corte Suprema con il rovesciamento della sentenza Raw di Wade che dal 1973 aveva aperto un ombrello federale contro le leggi restrittive imposte dai singoli stati tutelando il diritto all'interruzione di gravidanza ora quegli stati riacquisiscono il potere di legiferare sul tema tra quelli che lo hanno già fatto e quelli che lo faranno 26 avranno una legislazione antiabortista in Texas viene addirittura favorita la delazione per denunciare i medici che aiuteranno le donne a praticare l'aborto e proprio Austin in Texas è stata una delle moltissime città degli Stati Uniti nelle quali è andata in scena una protesta che non intende certo fermarsi a Caesar Rapids in Iowa ieri un pick up ha travolto alcuni manifestanti pro aborto ferendo una donna grande tensione anche a Phoenix dove nella notte la polizia ha disperso con i lacrimogeni alcuni manifestanti che hanno tentato di rompere le finestre del palazzo del congresso dell'Arizona la decisione della Corte Suprema è devastante e dolorosa ha dichiarato Biden sempre in occasione della firma della legge sulle armi difenderemo i diritti delle donne e la loro salute riproduttiva ha poi promesso poche ore prima però era stato lo stesso Biden ad ammettere di non avere i poteri per rovesciare questa situazione tanto più che al congresso non ci sono i numeri per una legge federale subito dopo il presidente statunitense è partito per l'Europa dove è atteso al G7 in Germania e al vertice Nato di Madrid ed è una visita piuttosto complessa quella che comincerà a fare Biden in Europa perché arriva intanto in un contesto internazionale molto delicato con timore di recessione con l'inflazione che aumenta con la posizione dello stesso Biden di grande difficoltà è crollato nei sondaggi e nel consenso e si avvicinano le elezioni di midterm negli Stati Uniti che potrebbero riservarli brutte sorprese ma soprattutto si avvicina all'Europa per cercare di rassicurare i partner europei e rafforzarli dopo lo scontro forte con la Russia aveva già infatti annunciato la Casa Bianca che avrebbe chiesto ai paesi europei ulteriori sanzioni nei confronti di Mosca e proprio poco fa la CNN ha annunciato che i leader del G7 hanno addirittura già concordato di annunciare un divieto di importazione sull'oro russo sarebbero fonti molto informate dalla CNN ad averlo comunicato tanto per capirci l'oro è la seconda più grande fonte di reddito per la Russia dopo l'energia dopo appunto il gas e il petrolio quindi capite la portata di questa decisione ma veniamo alla questione della politica italiana vi dicevo che oggi soprattutto si discute di questioni economiche in particolare dopo la proposta che ha avanzato il segretario del Partito Democratico Letta di una sorta di patto tra governo e parti sociali per il cuneo fiscale alla vigilia dei ballottaggi a chiusura di una settimana movimentata con il divorzio di Maio Conte la maggioranza scambia sorpresa segnali di dialogo sul taglio del cuneo fiscale e le misure contro l'inflazione e il segretario del PD a lanciare in alto la palla il convegno dei giovani di Confindustria a Rapallo propongo da qui un patto fra governo e parti sociali dice mettiamo il grosso delle risorse sulla riduzione del costo del lavoro un intervento shock il tema è di quelli cari alla platea degli imprenditori che oggi ospitano i leader e dunque ecco in mezzo ai distinguo che vedremo ma che sembrano per una volta un po' più sfumati arrivare dei quasi sì o dei sì ma un patto per il taglio del cuneo sì risponde Salvini rilanciando in direzioni meneaggreganti ci sia anche un concordato fiscale un patto fiscale fra cittadini e agenzia delle entrate aggiunge dossier classici per la Lega per Giuseppe Conte è l'occasione per inviare messaggi rassicuranti all'alleato PD che da giorni guarda il Movimento 5 Stelle con sospetto il taglio del cuneo serve serve che sia incisivo scandisce Conte più polemico Matteo Renzi anche il leader d'Italia Viva era ospite del convegno confindustriale tutti parlano ma quando è toccato a noi lo abbiamo fatto sottolinea rivendicando il bonus degli 80 euro e l'abolizione dell'IRAP Salvini e Conte attacca hanno distrutto l'economia la prevalenza del dialogo spinge il presidente di Confindustria Bonomi a mettere il tutto a verbale se siete d'accordo facciamolo subito il taglio lunedì commenta quanto alla reazione del governo si vedrà nelle prossime ore e per la verità ieri a Bruxelles in conferenza stampa Draghi aveva annunciato incontri anche sul tema con le parti sociali nel giro di una settimana a dieci giorni fin qui lo scambio sul dossier cuneo analoga circospezione caratterizza oggi così come ieri a caldo il dibattito sulla sentenza shock della Corte Suprema americana sull'aborto all'indignazione e preoccupazione del centro-sinistra e dell'area progressista ad Aletta Conte a Leo e sinistra italiana ma anche alle forze di centro non si contrappongono interventi di segno contrario nel centro-destra nessuno sembra sedotto dalla linea ultraconservatrice e trampista prudente Salvini che ribadisce come debbano essere decisioni delle donne prudente Giorgia Meloni che si limita a considerare lo specifico americano realtà diversa dalla nostra ha commentato continueremo a batterci perché venga applicata la prima parte della legge 194 il weekend insomma vede toni meno accesi i nodi interni alle coalizioni sono rinviati al post-voto compresi quelli che lacerano i 5 stelle lunedì o martedì una settimana dopo lo strappo di Di Maio arriverà a Roma Beppe Grillo aver sentito il presidente Bonomi auspicare che si affronti la questione alcuno fiscale già il prossimo lunedì in realtà si discuterà lunedì dei risultati elettorali perché domani si torna alle urne 2 milioni italiani chiamati ai ballottaggi sono 65 le città con 13 capoluoghi di provincia che domani voteranno per i ballottaggi delle amministrative i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 per circa 2 milioni di elettori sarà il penultimo test elettorale in autunno si voterà per le regionali in Sicilia prima delle politiche del prossimo anno per le due coalizioni che hanno già pesato le proprie liste nel primo turno varie le indicazioni che potrebbero giungere dai territori il centrodestra alle prese con l'infinita lotta per la leadership cerca ancora la strada di una unità non sempre riuscita mentre il centrosinistra terremotato dalla scissione di Maiana dovrà misurare il progetto campo largo in mezzo letteralmente le prove dei neocentristi da Calenda allo stesso Di Maio tutto in divenire il centrodestra il risultato è il vincitore del primo turno conquistando Genova Palermo e L'Aquila e si presenta in vantaggio in 10 capoluoghi su 13 di questi ne amministrava solo due Lucca e Cuneo occhi puntati su Verona città tradizionalmente di centrodestra dove il centrosinistra spera nell'affermazione dell'outsider Damiano Tommasi avanti sul sindaco uscente Federico Sboarina sostenuto al primo turno da Fratelli d'Italia e Lega nessun apparentamento con Flavio Tosi l'ex sindaco appoggiato al primo turno da Forza Italia e Italia Viva insanabile la rottura tra i due a Parma in vantaggio al primo turno è Matteo Guerra candidato di una coalizione di centrosinistra senza i 5 stelle che non si sono presentati ma sostenuta dall'uscente Federico Pizzarotti primo sindaco di capoluogo dei pentastellati eletto con una lista civica al secondo mandato avvenuto dopo l'espulsione dal movimento Guerra se la vedrà con Pietro Vignali già sindaco di centrodestra sostenuto al primo turno da una coalizione senza fratelli d'Italia che ha corso con un proprio candidato anche qui nessun apparentamento a Lucca la sfida è tra Francesco Raspini centrosinistra e Marco Pardini centrodestra mentre a Monza il sindaco uscente Dario Allevi centrodestra cerca la riconferma contro lo sfidante del centrosinistra Paolo Pilotto l'unico capoluogo di regione di questo secondo turno amministrativo è Catanzaro anche qui il centrodestra si è presentato diviso ossia senza fratelli d'Italia che al ballottaggio però sosterrà il candidato del centrodestra Valerio Donato contro Nicola Fiorita sostenuto da PD e 5 Stelle la 7 seguirà i risultati dei ballottaggi con lo speciale TG condotto da Enrico Mentana a partire dalle 22.40 all'appuntamento domani alle 22.40 per saperne di più ma intanto dobbiamo dirvi che c'è un'altra emergenza importante quella che riguarda i nuovi contagi da Covid le varianti e nuovi contagi corrono veloci ma all'ordine del giorno non ci sono nuove restrizioni spiega il ministro della salute Roberto Speranza e chiarisce chi invece è contagiato deve rimanere in casa oggi in isolamento ci sono 650.000 persone non è pensabile che vadano in giro la quarantena resta malgrado la richiesta di alcuni politici e scienziati di togliere l'obbligo di isolamento una delle poche misure rimaste insieme all'obbligo di mascherina nei trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie i dati infatti non sono per nulla confortanti dal report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità emerge in questa fase che verosimilmente c'è stato un forte aumento della quota di persone che hanno avuto un'infezione non notificata ai sistemi di sorveglianza in altre parole potrebbero essere molti di più coloro che hanno contratto l'infezione ma fanno il tampone fai da te per non essere rintracciati la conseguenza potrebbe portare ad una sottostima del tasso di incidenza in aumento insieme al tasso di ospedalizzazione e quindi del rischio relativo i casi settimanali ogni 100.000 abitanti hanno fatto un balzo in avanti importante da 310 a 504 in soli sette giorni in diminuzione invece ricoveri in terapia intensiva e decessi altro punto evidenziato dal report riguarda il fenomeno delle reinfezioni ovvero di coloro che si riammalano dopo aver contratto il covid nei mesi scorsi nell'ultima settimana sono stati oltre 556.000 la percentuale è pari all'8,4% in aumento rispetto alla settimana precedente quando quel dato era al 7,5% con l'indice di contagio RT tornato sopra a quota 1 per la prima volta dall'8 aprile governo ed esperti raccomandano ancora una volta l'utilizzo della mascherina almeno in tutte quelle occasioni è il rischio perché la circolazione del virus è trenata dalle nuove varianti alta oggi sono 56.386 nuovi casi segnalate rispetto ai 55.829 del giorno precedente il tasso di positività è al 21,8% ieri era del 23,4% al di là delle oscillazioni quotidiane la curva è chiaramente in salita ecco perché le autorità sanitarie ribadiscono l'efficacia della dose booster che secondo il report previene il 54% dei contagi e l'86% della malattia severa ad ottobre avverte speranza la campagna vaccinale ripartirà con i richiami autunnali e con un ampliamento delle fasce anagrafiche forse a partire dagli over 50 ma l'Italia ha anche le prese come è noto con l'emergenza sanità motivo per cui diversi governatori presidenti delle regioni italiane hanno chiesto lo stato di calamità e cominciano i primi provvedimenti benedice un piccolo pezzo di terra di fianco alla chiesetta di Trezzano Rosa in Brianza che simbolicamente rappresenta tutti i campi agricoli duramente colpiti dalla siccità in Lombardia regione tra le aree rosse d'Italia dove lo stato di emergenza regionale durerà fino al 30 settembre oggi è stato il giorno del pellegrinaggio dell'accivescovo di Milano del Pini per invocare la pioggia e dare conforto agli agricoltori che tra questi comuni dell'Interlanda milanese contano molti danni ai raccolti ormai andati persi c'è una difficoltà per la mancanza d'acqua ma insomma non dobbiamo neanche drammatizzare dobbiamo aspettare che venga una pioggia ristoratrice ma noi abbiamo fiducia ecco che non siamo abbandonati questa mattina anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha firmato un'ordinanza per invitare la popolazione a ridurre al minimo l'uso di acqua potabile e di uso domestico chiuse le fontane grandi l'acqua scorre nelle fontanelle dei parchi vista la nuova ondata di calore in arrivo sospesa l'irrigazione a spruzzo di prati e aree verdi nei negozi e negli uffici milanesi l'invito è a tenere una temperatura dei condizionatori non al di sotto dei 26 gradi l'emergenza idrica è un po' ovunque nel nord Italia laghi e fiumi sono oltre il minimo storico negativo sul lago maggiore momentaneamente sospesa la navigazione in alcuni punti dove il livello è basso e potrebbe causare incidenti con le imbarcazioni incagliate in previsione di almeno altri 10 giorni di caldo record si cerca collaborazione tra le regioni più colpite l'Alto Adige ha fatto sapere che aiuterà il Veneto a contrastare il dramma della siccità come lo ha definito il presidente Zaia dalle montagne Alto Atesine sarà garantita acqua supplementare anche il Trentino ha detto che farà la sua parte per aiutare i territori più in difficoltà ha deciso l'aumento di acqua per le centrali idroelettriche una mano tesa in un momento in cui è difficile aiutare come nel caos di Piemonte e Valle d'Aosta la regione del presidente Cirio ha chiesto aiuto al collega Lave Vaz che ha risposto no perché anche la sua regione è in sofferenza con i ghiacciai ormai da tempo senza neve che si è sciolta c'è ancora notizia importante dall'estero perché durante il gay pride a Oslo e Norvegia c'è stata una sparatoria con due vittime è un 42enne di origine iraniana di nome Zanyar Metapur l'uomo che ieri notte ha sparato nel centro di Oslo uccidendo due persone ferendone almeno 21 10 delle quali in modo serio gli agenti sono riusciti ad arrestarlo ed hanno recuperato un'arma anche se alcuni media norvegesi parlano di più armi inclusa una automatica la sparatoria è avvenuta all'1.15 di questa mattina ora locale quando l'uomo ha estratto da una borsa appunto un'arma e ha cominciato a sparare di fronte ad un pub in una strada affollata per ora secondo quanto riferisce il portavoce della polizia sembra che abbia agito da solo gli investigatori stanno trattando il caso come un atto di terrorismo islamico i servizi segreti norvegesi infatti tenevano d'occhio a Metapur da almeno 7 anni era considerato radicalizzato e appartenente ad una rete estremista islamica secondo alcuni media i servizi dell'antiterrorismo l'avevano interrogato l'ultima volta lo scorso maggio non riscontrando però intenzioni violente ma con la certezza che fosse comunque mentalmente instabile era stata diagnosticata la schizofrenia l'uomo ha una sfilza di precedenti penali il ragazzo era stato espulso dal liceo dopo essere stato coinvolto in una rissa con coltelli in un nightclub e condannato a 10 mesi di prigione in corte ed appello la pena era stata ridotta a 30 giorni di carcere per motivi di salute mentale anni dopo era stato condannato a 3 mesi di carcere per il possesso di 100 grammi di cocaina poi coinvolto in una sparatoria domestica ad Oslo infine condannato per porto di coltello non autorizzato il movente del gesto non è chiaro teatro della sparatoria un quartiere della capitale norvegese che ospita locali abitualmente frequentati da omosessuali come il London Pub e l'Ernilson Jazz Club per oggi era poi previsto per le strade di Oslo e il gay pride subito annullato per precauzione anche se una marcia spontanea con centinaia di persone si è tenuta per commemorare le vittime adesso parliamo di sport si può davvero dire che l'acqua azzurra ai mondiali di noto di Budapest con l'impresa straordinaria quasi leggendaria di Gregorio Paltrinieri che ha rivinto l'oro nel 1500 stile libero ma non solo lo davano per finito invece no Gregorio Paltrinieri ha stravinto i suoi 1500 senza troppe difficoltà alla faccia di chi lo aveva quotato a 26 medaglia d'oro e record europeo a un soffio da quello mondiale lasciando indietro molto indietro i suoi avversari un sogno una gara condotta tutta davanti a tutti senza mai una flessione Gregorio leggendario mitico strepitoso favoloso non ci sono aggettivi e la sua terza medaglia d'oro è ridata su questa distanza volevo dare una dimostrazione di forza e ci sono riuscito ha detto Paltrinieri dopo aver fallito gli 800 ero entrato in crisi ma avevo voglia di riscatto oggi mi sono detto dai tutto piuttosto muori in vasca sul podio anche Benedetta Pilato già oro nei cento rana che ha conquistato la medaglia d'argento nella finale dei 50 la Tarantina è stata battuta dalla lituana Melutite e poi il bronzo di Thomas Cekon già oro nei cento d'orso col primato mondiale che ha invece conquistato la medaglia di bronzo nei 50 d'orso la gara è stata vinta dallo statunitense Armstrong l'argento è andato al polacco Masiuk Cekon aveva chiuso al quarto posto ma la squalifica del vincitore lo statunitense Rez lo ha fatto salire sul podio in chiusura di serata in presa della staffetta azzurra che ha conquistato l'oro nella 4% mista maschile impressionante la gara dell'Italia l'Italia chiude così a 10 medaglie conquistate come mai era riuscita il dopo Pellegrini è bello ci sono altri azzurri e azzurri che hanno raccolto il testimone questa mattina un oro e un argento nel nuoto sincronizzato con l'impresa di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggero nel libero per la prima volta nella storia del sincro tricolore ma nell'ultima giornata è arrivato anche l'argento nella prova Highlights e purtroppo bellissimo il dopo Pellegrini purtroppo si sono fermati a 9 le modaglie per gli italiani perché abbiamo perso la medaglia di bronzo consegnata a Thomas Ceccon durante la premiazione dei 50 d'orso perché i giudici del mondiale di Budapest con una decisione lasciatemelo dire forse un po' tardiva hanno accolto il ricorso agli Stati Uniti e tolto la squalifica Justin Rees che era appunto il numero 1 il trionfatore della gara e quindi si è riappropriato dell'oro e purtroppo Ceccon è riscivolato in quarta posizione dopo di noi sono ospiti di Inonda questa sera Massimo Giannini Luca Sofri Maddalena Oliva ci vediamo qualche istante poi torniamo per gli aggiornamenti ecco ci stavo controllando non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi quindi lascio la linea a De Gregorio e Parenzo per Inonda grazie per l'attenzione ci vediamo domani se volete poco prima delle 20 buona serata grazie